La novità ad Adrano per la festa dell'Unità Nazionale delle Forze Armate quest'anno verrà celebrata lunedì 6 novembre non in piazza Armando Diaz per lavoro in corso ma alla villa comunale l'omaggio floreale delle autorità verrà deposto ai piedi del busto bronzeo del sottotenente Giovanni Ali nel viale degli uomini illustri ci sarà anche una marcia della pace con il coinvolgimento delle scuole cittadine sentiamo al riguardo l'assessore Salvo Italia La giornata nazionale, la cerimonia che dovrebbe svolgersi il 4 noi la svolgeremo il 6 novembre, il 4 è sabato parteciperemo a quella istituzionale organizzata dalla prefettura di Catania nel comune di Bronte, il 6 saremo qui ad Adrano proprio per creare il clima giusto, la partecipazione giusta di tutte le scuole del primo ciclo e anche del secondo ciclo perché il sabato la maggior parte di esse sono chiuse però quest'anno vogliamo lanciare un segnale l'abbiamo concordato con i dirigenti scolastici arricchire questa giornata con un grande spirito, predisposizione e desiderio di pace Papa Francesco parla di una terza guerra mondiale diffusa noi vogliamo lanciare da Adrano solamente una goccia d'acqua nel deserto per carità senza alcuna presunzione lanciare un messaggio di pace di educare alla pace di formare alla pace e lo facciamo onorando intanto questo giovane Adranita che è al cippo alle mie spalle il tenente Ali pensate è morto giovanissimo era uno studente di medicina a cui l'università di Catania poi ha dato addirittura la laurea ad honorem in medicina e chirurgia è morto nel 1916 nel corso della prima guerra mondiale è lui che oggi dal punto di vista spirituale proprio ci invita a credere fortemente alla pace perché la guerra è sempre una sconfitta ci sarà una cerimonia e un corteo che partirà dal palazzo comunale di via Aurelio Spambinato sì il corteo partirà da via Aurelio Spambinato come sempre però come sempre possiamo dire che non giungerà al monumento dei caduti in piazza Armando Diaz perché è appunto soggetta a una riqualificazione e allora la cerimonia finale conclusiva si svolgerà qui al centro della villa comunale ho detto con la partecipazione delle scuole ci sarà la scuola media Guzzardi che alla sua orchestra animerà con l'inno d'Italia e altre musiche e altri canti e poi anche perché la location ideale non dobbiamo dimanare che anche la villa si chiama Giardino della Vittoria e questo nome fu proprio a seguito della vittoria del 4 novembre del 1918 con la pace di Villa Giusti con cui finì la prima guerra mondiale come diceva Assessore sarà una occasione per ricordare il giovane sottotenente Giovanni Alì durante possiamo definirla una marcia della pace certo ma anzi proprio questo il giorno 6 noi onoreremo la nostra patria l'unità d'Italia le forze armate giustamente ma la vogliamo arricchire anche con questo contributo cioè la marcia sarà una marcia per la pace e i ragazzi prepareranno dei cartelloni lanceranno proprio dei messaggi e la pace bisogna costruirla costruirla da basso e quindi la costruiamo attraverso i bambini così come a loro faremo scoprire questa stupenda e bellissima figura di un nostro concittadino di un nostro giovane che in questo viale si ricordano tante figure personaggi di Adrano Giovanni Alì merita un posto privilegiato a volte molto spesso dimenticato sarà l'occasione per ricordarlo e per presentarlo come un modello un modello di sacrificio ma attenzione non di sacrificio per una guerra ma di sacrificio per un'affermazione di quelle che sono importanti i valori della difesa della propria terra ma nello stesso tempo anche lui ci lancia un messaggio di pace attraverso il suo sacrificio e la sua vita a costo della sua vita